Mi trovo dinanzi al settore servizi sociali del comune di Taranto in via Veneto. Per disposizione dell'amministrazione comunale, del commissario prefettizio, dal 9 maggio non vengono più erogati contributi ai bisognosi, contributi per i fitti in canoni di locazione, per il pagamento delle varie utenze private di gas, luce, acqua e quant'altro. Questo per una ragione di prudenza perché c'è la campagna elettorale e si vorrebbe evitare che ci potessero essere situazioni di sfruttamento da parte di qualche candidato nei confronti delle situazioni di bisogno evitare il voto di scambio. Questo è un discorso che può avere anche una sua logica, però è assurdo che un commissario prefettizio non sia in grado di garantire questi contributi alla gente che ha bisogno, perché la gente che ha bisogno cosa risponde al commissario prefettizio? Veniamo a mangiare a casa tua? No, caro commissario. Lei deve vigilare affinché non ci siano situazioni particolari di candidati che sfruttino queste situazioni di bisogno, ma al contempo lei commissario deve garantire questi contributi che sono essenziali per queste persone. Oltretutto passerebbe chissà quanto altro tempo fino a che verrebbero poi ridati questi contributi. Consideriamo per esempio la gente che ha, per quanto riguarda l'energia elettrica, è già stata messa in mura e sicuramente con tutto il tempo che passerà dalla mura si passerà al distacco dell'energia elettrica e poi si dovranno spendere altri soldi, ci saranno altri costi per riattivare l'energia sui 120-130 euro e quindi i costi lievitano, aumentano ancora più. Ripeto, è assurdo, è assurdo. Il commissario non può fare come Ponzio Pilato che se ne lava le mani e dice no, sospendiamo. No, perché lei, signor commissario, con tutto il rispetto per la sua persona, perché è una persona per bene e una persona certamente capace professionalmente, beh, lei ha i pieni poteri del sindaco e del Consiglio Comunale, quindi non può, come dire, fermarsi. Ma ascoltiamo la viva voce di un cittadino che ha chiesto un contributo e purtroppo si è visto le porte sbarrate. Oggi, 26 maggio, sono venuto tramite appuntamento qui dagli assistenti sociali in quanto mi avevano riferito di venire oggi per chiedere un contributo per le energie elettriche, in quanto l'energia elettrica è a casa disattivata e altri problemi, insomma, acqua che non ho e tante cose. Venendo qui oggi mi hanno detto che sono sospesi i contributi in quanto ci sono le elezioni elettorali e avevo chiesto se mi puoi fissare un altro appuntamento e mi ha detto no, vieni dopo le elezioni, eventualmente anche dopo il ballottaggio, pertanto passerà ancora un mese, un mese e mezzo. Poi loro mi danno l'appuntamento e passano ancora altri due mesi. Se tutto andrà bene, mi sarà accordato il tutto, forse avrò 100 Euro di contributo e probabilmente l'avrò a novembre-dicembre. Siccome ho dei grossi problemi oggi, in quanto la luce è staccata, insomma, non posso proprio vivere in questa situazione. In più, ho un carcinome alla vescica, gliel'ho pure detto, riferito, e mi hanno detto senti, per avere il contributo vai da un medico e fatti avere delle, non so come si dice, insomma, dei preventivi. Io sono andato, però giustamente mi diceva il medico, io non posso fare dei preventivi per avere dei contributi. C'è veramente una situazione tragica, non so proprio a chi rivolge, mi ringrazio, il dottor Abbati che ha avuto questa pazienza oggi di farmi fare questa mia espressione. Io non voglio certamente speculare su questa situazione, ma da sindaco con me la cosa sarà completamente diversa. Non è possibile che non si diano contributi, non si dia aiuto a chi ha bisogno. Lo ripeto per l'ennesima volta, bisogna vigilare perché non vi siano situazioni di abuso, ma al contempo chi ha bisogno deve vedere soddisfatta la propria esigenza. Parliamo, scusatemi i termini molto crudi, di gente che davvero muore di fame. Grazie.